Mercato immobiliare in crescita in Calabria nel primo trimestre del 2024 con i prezzi degli affitti che salgono però in misura maggiore rispetto a quelli di vendita e quanto evidenziato dall'osservatorio trimestrale sul settore residenziale curato da Immobiliare.it. Acquistare casa in Calabria alla fine di marzo costa mediamente poco meno di 950 euro al metro quadro in conseguenza della crescita dell'1,5 per cento dei prezzi nel trimestre mentre per affittarla il canone medio ammonta a 8,6 euro al metro quadro il più 6,9 per cento in tre mesi in regione nel primo trimestre dell'anno è scritto in una nota anche domanda e offerta di entrambi i comparti presentano un aumento soprattutto in quello delle compravendite la richiesta fa assegnare un più 15,4 per cento a fronte comunque di un importante accumulo di stock il più 15,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti per quanto riguarda le locazioni a una domanda in crescita attorno all'11 per cento risponde un'offerta anch'essa in positivo attorno all'11 per cento rispondito un'offerta quanto riguarda le